Sto cercando un describo da dansker super solito di roba che ho collezionato dal 2016-2015 Stiamo ricordando se c'è un caretto per la mitica console del 2006 della Nintendo, la Wii Ben ritrovati con la serie di un posto d'Amster che c'è dentro in questa scatola Voi non la vedete ma la vedete io, Marema Mariana, la telecamera di merda Da cinese, non ce l'hanno con nessun cinese Ecco, voi non lo vedete dall'inquadratum, mi sono spostato in una scatola, una cassa, vero? E' un po' più tempo compiuta, Marema Mariana sta facendo l'audio dal computer E' un po' più tempo compiuta, ma pizza non lo vedete E' un po' più tempo compiuta, che si dava più tempo, sistema spostato in più E' un po' più tempo, mi sono un po' più tempo, me stavamo in più E' un po' più tempo, mi sono successivo L'Atlante, l'autoratorio di storia di una figlia, mi ricordo di 8 anni fa, mi ricordo di 8 anni fa dove avevo questo canale, 8 anni fa, 8, 9 anni fa, 12, è più da 12, non avevo questo canale, non avevo questo canale, non avevo questo canale, non avevo questo canale, se si apre questo su bambini, ma a proposito non sono toscano, sono peccano, non è, al nuovo di questo, ora spesso, a proposito, di questo, faccio vedere, stagionare, E' un po' 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 Sì, sì, sì. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Guardate C'è un cazzarola Cazzarola di minchia Non è rotto possibilmente Non è rotto possibilmente Non è rotto possibilmente Grazie a tutti 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 Grazie a tutti